Ragazzi si sono allineati i pianeti, non so cosa sia successo ma i Mates e Favij stanno registrando un video insieme! Eccoci qua, tutti nella lobby di Scribble.io, abbiamo 4 round a disposizione e dobbiamo indovinare reciprocamente i disegni l'uno dell'altro. Mi vorrei dire che se io prima ero vecchio quando giravamo sti video, adesso sono invecchiato ancora di più e qui sono un po' più lento. Cosa vuoi che sia 10 anni in una scala da 1 a 700? Cosa importa? Ho capito, ma la vecchiaia ti porta ad essere più lento nel leggere e nello scrivere e abbiamo già la giustificazione, dai! Siamo pronti? Ah parto subito io! Allora raga questo, questo è facilissimo eh, che ve lo dico a fare? Che vo dico a fa? Vai Giuse che è tua, è tua! Grande Beppe! Ma come no? Ah no! Quella linea! Ah 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 ah! Ah 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 ah, arance quelle! Ma sono partito a fuoco! Dai Giuse è più facile quello che non poteva essere. Ancora Stickman! Oddio! Eh? Eh? Che quello che siamo noi, quello che siamo noi! Eh? No, eh no! Qual è la parola? Noi! Noi è vero! Ma non è vero! Si, meno noi! Ma che significa? Vabbè, io sì, dai, ormai. Klausuri, praticamente. Che cazzo? Money grab. Dacci mo... Dacci altre info! Cosa vuol dire? Noi vlogger... Noi siamo vlogger. Ma siamo noi youtuber, cri... Ma che caspita dici? E le altre parole erano impossibili, raga, c'era Yoda. Ma poi cos'ha in mano? Un accendino, quello. Ma ragazzi, è facile. Una canoa? No, non è una canoa, è molto più... Eeeh... C'è anche questo. Sì! Scusa, con questa, scusa. E andiamo, basta, basta, non gli dire più niente a sti infami. Ma no, 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 basta. Cosa vuol dire tutti i meno fuori? Cos'è sta va a fare? Caccafo! Si ricomincia! Per cos'è questo, pò? Non fare cosa in piedi, che non si capisce un c... Ma come non si capisce, dai! Cos'è una candela? E' una candela! Ma quale candela? Ma sembra una candela. E' un righello. Ma cosa? Ragazzi, non ci sarei mai arrivato. Ma neanche tra tre round. Raga, impegnatevi con i disegni. Boh... DONNA E FA VJ! LUI E QUI ELE DITA VELOCINE! E' Lì che spippola con quelle dita! Che ero abituato alla pressione di questo gioco, sempre così. Ma raga, ma è un dinosauro? Pensava a spippolare. Un dinosauro? Ma... Capisco che cosa l'hai fatto bene, però. Ma è un dinosauro! Una tartaruga? Ma cosa? Ancora una tartaruga! Cos'è stato? Ah, ok! Too late! Ma l'ho scritto! Ma l'ho scritto! Ma l'ho scritto! L'ombrico varicella! Una nuova specie! Ma l'ho fatto meglio di una giraffa, eh! Oddio, questo è bellissimo, raga! Questo è difficile e vabbè! Dai! Eh! Caspite! Aspetta, mi sto impegnando, raga! Ma quando arriva il disegno vero? Eh, aspetta! Quale è il disegno, scusa? Eh? Dai, ragazzi, questo si capisce! Ma dove? Aspetta, mi sono andato sopra di lui, fate pitta che non sono... E quindi? E quindi? E quindi? E quindi? E quindi? Abbiamo capito! Presa, presa, presa! Devi farlo un po' più classico, classico, no? Cos'è, come? No, era difficile! Dai, era scritto Amsterdam, ma con Amsterdam si capisce! Eh, abbiamo capito che è un DJ che fa il DJ... No, è facile! Dai! Amsterdam! È facile! Oh mio Dio! Ma eh! Oh, fai quello che conosciamo noi, già che ci eravamo andati, l'ho fatto! Non era difficile! Allora! Comunque senza Amsterdam era impossibile! Eh, vabbè, puntavo a scriverlo! Potevi scriverlo per prima, magari! Effettivamente c'erano anche te! Questo sono partito male, eh, ve lo dico! Però posso riprendermi, dai, posso riprendermi! Su via! Proprio lui! No, l'hai preso il tuo, ma lo prendo io! Forza, raga, dai! Presa! Presa! È un dito! A parte che questa sembra una faccina e mi inquieto! Raga, io sì! È vero! È vero! È vero! È vero! È vero! È vero! Guarda la faccia! È un gigante che guarda la faccia! Dai, no! Dai, no! Dai, fra, dai! Questo è uno stadio? Questo è uno stadio? Cos'è questo? Guarda trovo le gambe nel tavolo! Ma scusa, ecco, è difficile a farlo! Su boot! E non so come farlo! Non riesco a scrivere! Ma come ha fatto Suri a indovinare? Non è possibile! Ma non c'è! Ah, presa! Come si chiama? Y! Come si chiama? Magina, magina! No, allora, vabbè, easy, vabbè, easy, raga. Eh, più di così! Ma basta, Favij! Proprio lui! No, ma è sempre dietro Suri. Suri è irraggiungibile. No, raga, io ne ho alcune, io ne ho, io ho Xerox e Uluru. E ho la terza che ho scelto ora, Xerox e Uluru. Che cos'è questa roba? Eh... Oddio! Ho indovinato! Poche! Ah! Fai prima quello, fai prima quello! Eh, no, scusate! Eh, ha fatto bene, ha fatto bene! No, dai! E poi io facevo male, però metterò la fine, mannaia! Brrrr! Gli ho fatto un po' più fretta, se permetti! Ma questa è la faccia di indovinare, me lo sento! C'è che ha disegnato a Favij, la donna? Prima sempre queste cose, lento, lento! Cosa stai facendo? La baguette piccante? No! Ma basta ste baguette, ragazzi, però, eh! Cos'è ti... Vai ragazzi! Ma cosa hai presa? No, dai, mi hai preso per un secondo, su, rimaledetto! Ma cosa vuol dire? Dai! Cos'è questo? No, non questo! Non è questo! Eh, ho capito! Però devi capire questo per... Ok, e poi quindi? Eh, vedi, vabbè, dai! Cioè, cosa ha disegno quella? Uno che ci accade! Eccoci! Come lo disegno questa? È un momento di asset i trepi! Ci sono, ci sono! Eh? Stai guardando! Ah! Dai, è semplice! Ah! Non mi viene! Che cosa fanno lì? Che cos'è la Gringot? È una panna! Ah, ok! Miche, ma era proprio difficile! Cioè, secondo me non la indovinano mai! In 25 secondi non la indovinano! Non lo so! C'hanno tanti soldi! Gestiscono i soldi degli altri! È un... È un... È un... C'è anche nel mondo normale! Guarda! Quando fai una rapina, dove la fai? È in banca! Abbiamo capito! È lui chi caspita è se sta in una banca? Culo! Devi fare una freccia! L'ho scritto! Ma l'ho scritto anch'io! Troppo tardi! Vote Kikvega! Ma si può! Votate per Kikvega! Votate per Kikvega! No, no! I am the big! Qua sono troppo forte qua, raga! È facilissimo! Eh... No! Suri ha indovinato? Suri ha indovinato come? Suri! Potete Kikcare Suri! Suri è facile o sbaglio! Sì, Kikchiamo Suri! No, no! Non lo so neanche io! Ho già giocato in passato e mi era già uscito e quindi... Porcher! Eh... Ma no! Non si sa neanche cosa sono Giuseppe! Quelle cose che hai fatto! Tu fai indovinare Suri per farlo vincere, hai rotto! Ma no! Ma cosa? Bicchierino! Che cosa vuol dire? Bicchierino! Ave l'ho fatto il bicchiere grande e quello piccolo! Che almeno non ha senso! Allora, se ragionate è facilissima! Come si dice? Concentratevi sulle persone! Che ho capito! Eh... Non mi viene! Ma come no! Come si dice? Non mi viene! Non mi viene! Ma vaffan cuore! Dai! Eh... Quello però con parole diverse! Come io lo dici! Ma io lo direi che Suri non hai indovinato se no lo ripillo più! Eh... Non so, c'hai ragione! Non capisco! Suri! Distrailo! Distrailo! Acquedotto! Acquedotto! Calzini sporchi! Non potevo farla diversamente! Non si può andare! Evitate gli assembramenti! Aaaah! Eh... Non potevo farla diversamente! L'hai fatta bene! L'hai fatta molto bene! Sì sì! L'hai fatta benissimo! E ora Suri lo farà semplice così si prende i punti! Sibiglia! Cosa stai facendo? Iiii! Andiamo! Cos'è? Ci portiamo a casa questi punti belli tosti! Sto sempre bravo! Eh? Aaaah! Che bello quando hai indovinato! Sapendo! Come fai? Vi sta distraendo raga! Vi sta distraendo! Non c'entra niente il secondo disegno! Che cacchio è? Ma che è diventato Icaro quel coso! Come bravo! Ho scritto tutti! Ma dai! Ho scritto braccia invece che braccio! Dai! Dai che recupero Favij! Madonna è difficilissimo! Allora ce l'ho attaccato qua! Libro di architettura! Sì! Basta! Basta! Non dare indizi! Ma non funziona così! Io lo sto copiando tale qua da quello che sto vedendo ma io ce l'ho attaccato al muro! Dai Giuse pensa! Eh penso io! Dai! Sì! Ma non si dice pagella eh! Diploma! Quello che ho a fianco a me ma... Io c'ho un diploma a fianco a me! Ma perché? Te lo giuro! Questa è bella! Sempre nello stesso posto di prima eh! Qui c'è una lente di ingrandimento per cui vedi quello che c'è qua ovvero... Cosa? È il bar! Come si chiama il bar? Ma aveva una pistola quella! Non so come spiegare! Ma non ho capito lo zoom! Ah! Non ho capito lo zoom! Ehm... 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 Concentratevi sulla lente! Non è vero che... Stai zitto! Ma come stai zitto! Indominate da fare i punti! Ci sono 22 persone che giocano e questo qui è l'un e l'altro! E l'abbiamo scritto! Ah! Dai! Dai! Quello che dirige la squadra come si chiama! Ma stai zitto Fabi J! Un ultimo muovono! Siiiiiiiiiii! Non è vero che sono io! Perché la telecamera? Cosa c'entrava la telecamera? Ma quale telecamera?! A quale telecamera?! Bellissimo! Ehm puro zoom da lontano! Si perché non si vede da lontano! Si perché non si vede da lontano è piccolo! Raga raga la mia è facilissima! Ragazze cazze cazze! Regazze i bicchieri! Bastaahhh!! Il virichino! Piacima di nuovo! Ma non lo scegliere! Ma no perché faceva ridere? Cioè Fabi G ha indovinato un fischietto e vi ha subito tutti Eh Pulito Che caspita è? È un arco Cos'è? Cos'è? È semplicissimo Oh una volta che ho indovinato Ma cos'è? Palla Vabbè se non indovini pace Chi se ne frega Eh zio è capibile L'ho capito tutti Una volta che ero primo Potevo chiuderla Ho sbagliato Rifaccio Come si fa a togliere tutto Dai che è difficile Sì Eh È Surry Sempre Surry Ma dai vicino Vicino Potevo azzeccare la prima no? Era veramente fatto bene In HD Ho detto Sì Ma come è sempre Surry alla fine Ero arrivato io primo Dai per un pelo Non si sa come è riuscito a vincere Surry Io ringrazio tutti quanti per la partecipazione La prossima volta tranquilli Giocheremo senza di lui Che non ha detto una parola Ma le azzeccate tutte Spoliciate i commenti E scrivete la campanellina Noi ci vediamo nel prossimo prossimo video Ma è sempre tutto Ciao Ma pensate Noi ci vediamo nel prossimo video Noi ci vediamo nel prossimo video